Ah che miseria, privato in chiave sexy, mi devi andare, ti avevo detto di non combinare casini, me ne vado quando lo decido io, non sei il mio capo, no? Oh, anduario, credo che non sia avvenuta per me. Andiamo El, va via, ok? Dico davvero, rimettiti la maglietta ed esci da qui. Quello che diceva aveva senso e significava che gli importava di me, ma dalla bocca mi è uscito... Ti ho detto di smetterla di dirmi cosa devo fare! Guarda questo Noah Flynn. Guarda questo Noah Flynn. Guarda questo Noah Flynn. Guarda questo Noah. 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 Grazie.